uno un baccolone fammi vedere fammi vedere siiii nooo è gigante dobbiamo aprirlo? si ragazzi lo sto aprendo con delicatezza molta delicatezza andando a chi dobbiamo ringraziare per questo uovo a papà oh no versiamolo così andiamo a vedere vediamo cosa c'è dentro ahhh ben l'urgo mascolone calore calore oh no questa c'è questa c'è lo scotch dai così vediamo vediamo c'è la canzone di mercoledì allora ma io ho visto la canzone di mercoledì wow allora usciamoli ad uno ad uno i fermaggi i fermaglini di mercoledì che posso mettere a dittorio poi abbiamo un poster ah no un poster di mercoledì guardate che bello poi un libro da colorare di mercoledì guardate poi quando mi dico se io devo andare a scuola dindron la sveglia poi qua cosa ho trovato guardate guarda oh ora vedremo cosa sono però c'è dentro dentro e questo cos'è cosa c'è dentro questo è tipo uno squishy vuoto uno squishy senza nulla dentro forse si dovrebbe riempire sì perché c'è l'acqua l'acqua no non di acqua vabbè fa una puzza però grazie poi c'era questo scatolino dove potremmo metterci dentro questi fermaglini volando possiamo conservare qui dentro e poi poi abbiamo la tazza di mercoledì adams guardate che bella è un puzzle è un puzzle è un puzzle di mercoledì che ora faremo vediamo ah è praticamente mezzo fatto vediamo no vediamo 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 aspetta l'ho trovata la testa di mercoledì ecco la brava mamma se l'avvicini se l'avvicini ma tutta la testa di mercoledì tutta la testa aspetta la testa di mercoledì questo si dovrebbe riempire si illumina perché dentro c'è qualcosa si illumina c'è qualcosa dentro cosa è qua eccolo c'è qualcosa dentro che è il puzzle più veloce della storia perché l'ho già mezzo fatto ma ma perché perché c'è una cosa dentro guardate guardate eccoci perché dentro c'è una cosa no bianca comunque questo cosa fa una puzza pazzesca ti consiglio di buttarlo perché veramente no perché non lo devo buttare va pozzissimo no ma li possiamo mettere il puzzle è fatto si ragazzi il problema lo sapete che cosa è questa palla che c'è dentro vabbè poi vedremo no 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 allora ragazzi questo era il nostro uovo ripieno di cos'è un po' vabbè comunque se vi è piaciuto questo video mettete like e iscrivetevi canale attivate la manina e mettete like saluta ciao ecco come si mette ciao barrette e barrettine ecco come si mette un braccialetto forse va bene ciao a tutte